Oggi abbiamo tra l'ordine del giorno, c'era tra i provvedimenti più significativi, il più significativo che abbiamo adottato è il cosiddetto decreto immigrazione. Abbiamo alla fine, rispetto all'originaria formulazione, unificato in un unico decreto i due che originalmente erano stati presentati, immigrazione e sicurezza, abbiamo pensato che sia più funzionale anche in ragione della complementarietà di materia, unificarli in un'unica struttura normativa, per cui abbiamo deliberato un decreto immigrazione che contiene varie norme. Quello che mi interessa è il principio di fondo, ovvero sia mettere dei punti fermi sul tema immigrazione e richiedenti asilo. Quindi la protezione umanitaria che doveva essere residuale e invece era lasciata la libera interpretazione del caso viene normata con sei fattispecie specifiche e quindi non si può lasciare alla libera interpretazione del sindaco, del singolo, una scelta così importante. Se rispondi a una di queste fattispecie hai il documento e altrimenti il documento non ce l'hai. Ci sono alcuni provvedimenti. La prima domanda è se vi dichiarate sicuri quindi immagino che un richiedente asilo che viene beccato a spacciare droga, a scippare o a molestare un minore ha la sua domanda sospesa e se ritenuto soggetto pericoloso viene accompagnato in un CPR per l'espulsione. Questo ritengo che non leda alcun diritto fondamentale. Io ti apro le porte di casa mia se poi tu entrando in casa mia spacci droga ai miei figli con tutta l'umanità possibile ti sospendo la domanda e ti riaccompagno là da dove sei arrivato. Così come non ritengo che sia fuori dal mondo anzi la possibilità di togliere la cittadinanza a chi l'ha acquisita e poi viene condannato in via definitiva per reati di terrorismo internazionale. Per i richiedenti asilo è prevista la sospensione della domanda in caso di pericolosità sociale con invio al CPR o in caso di condanna in primo grado. Grazie a tutti.